Proprio a laureopoli potremmo definirla? Insomma, gli studenti coinvolte sono soltanto due, però la consumazione del reato è così grave che ha consentito ai due dipendenti università di lucrare di somme relativamente modeste certo fa pensare che vi siano altre fatti analoghi perché sarebbe senza senso rischiare il carcere, rischiare il posto di lavoro per le due corruzioni che abbiamo scoperto quindi non è un caso giurato? Per una somma di 2.500 per lo studente che si è lavorato e di 250 euro per l'altro studente Quali sono i reati contestati? C'è il falso, la corruzione, l'accesso abusivo ai sistemi informatici Quanto costava una laurea? Un giovane che si è lavorato ha pagato, come dicevo prima, 2.500 euro però alcuni esami li aveva sostenuti realmente Ci sono ancora altre indagini? Ci sono ancora altre indagini Perché non è un caso isolato? Diciamo poc'anzi, se questi due dipendenti dell'università hanno rischiato tanto e si trovano in stato di arresto penso poco probabile che l'abbiano fatto soltanto in queste due occasioni per recuperare una somma che non è sicuramente una somma rilevante Grazie 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 Grazie